Buonasera a tutti da Tokyo, io sono Sandro e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Bumbu, mente e corpo. Anche grazie alla diffusione dei social media ci capita sempre di più di vedere immagini, video di scuole, palestre di arti marziali in Giappone in cui si loda il contenimento degli studenti e il rispetto che questi mostrano nei confronti dell'insegnante. Tendenzialmente gli studenti giapponesi sono rinomati per la loro mansuetudine e per non interrompere mai il docente durante la lezione. Questo aspetto del loro carattere gli ha concesso la fama di popolo estremamente disciplinato e ligio al dovere. Tuttavia se andiamo oltre una valutazione abbastanza sommaria di quanto possiamo vedere dall'esterno, la domanda che sorge spontanea è quanto possa essere efficace un'istruzione a senso unico in cui chi ascolta non è mai esortato a chiedere chiarificazioni a chi sta spiegando. Ciò è quanto di più lontano possa esserci dal modello occidentale in cui gli studenti vengono continuamente messi alla prova dai loro insegnanti per verificare se quanto appena spiegato è stato recepito correntemente. In altre parole da una parte abbiamo l'occidente dove l'individualismo viene fortemente enfatizzato mentre in Giappone si tende più verso un senso di collettività difficilmente riscontrabile in altri paesi. Ciò contribuisce sicuramente alla creazione di una società del rispetto e dell'armonia che sicuramente esercita un forte fascino verso gli amanti della cultura giapponese e asiatica in generale. Dall'altra però non permette la formazione dell'individuo in quanto tale. Certamente il Giappone presenta un livello di mascolinità e di competizione molto elevati ma a differenza dell'occidente dove spesso al concetto di mascolinità vengono associati dei livelli di individualismo molto elevati quello a cui assistiamo in questo paese è sicuramente una competizione molto serrata ma non tra individui bensì tra gruppi siano essi gruppi aziendali istituti scolastici o altri ancora. Durante la mia permanenza in Giappone ho avuto modo di trovarmi all'interno di università scuole di arti marziali e aziende giapponesi. Un elemento che ho riscontrato in tutti e tre gli ambienti è stata una sorta di apatia una situazione per la quale molti individui non tutti però sicuramente una buona parte procedono per inerzia. Ad esempio prima di entrare all'università di Tokyo mi ero psicologicamente preparato per affrontare un ambiente e un metodo di studio che ritenevo fossero di gran lunga più ardui di quello italiano una sorta di accademia militare. Non solo mi sono accorto molto presto che le mie supposizioni erano del tutto infondate ma addirittura che l'impegno richiesto per il superamento degli esami era irrisorio se comparato a quello necessario in Italia. Durante le lezioni universitarie ad esempio l'interazione tra studenti e professore era praticamente inesistente. Il docente fa la sua lezione di 50 minuti di un'ora molto spesso leggendo direttamente dal libro e tutti quanti lo ascoltano senza batter ciglio. Molti studenti dormivano addirittura ma dal momento che essere fisicamente in aula è la cosa più importante al superamento dell'esame il professore non li rimproverava mai. Una sorta di vivi e lasciavivere dove ognuno si comportava secondo quello che l'etichetta richiedeva. Entrare in una prestigiosa università giapponese è difficilissimo ecco perché molti studenti si preparano anni prima in scuole apposite al fine di superare il test d'ingresso. Una volta passato questo però il resto è ordinaria di amministrazione. Il fuoricorso è praticamente inesistente così come l'abbandono universitario e il terzo e il quarto anno vengono completamente dedicati alla ricerca di un lavoro. Alla fine del percorso accademico il 98% degli studenti avrà già trovato un impiego molto spesso a tempo indeterminato. Questo dà una chiara idea di come il mondo del lavoro e quello dell'istruzione in siano ben collegati l'un l'altro. La mancanza di curiosità che ho trovato in ambito accademico era ancora più marcata nelle aziende, il posto dove forse più di ogni altro la struttura verticale della società giapponese si fa sentire. Durante gli anni trascorsi con imprese giapponesi non mi è mai capitato di vedere uno dei miei colleghi chiedere delucidazioni al capo, al nostro responsabile, durante una riunione. L'apparenza e la forma sono tra gli elementi più importanti all'interno della società nipponica, molto di più che la sostanza. Mi è capitato di rimanere innumerevoli volte in ufficio fino alle 11, a mezzanotte, all'una di notte, soltanto perché il capo del mio capo era ancora intento a fare qualcosa. Nessuno sapeva di preciso che cosa stesse facendo, ma ovviamente nessuno osava andare via prima di lui. Ma anche se effettivamente non c'è più nulla da fare, è comunque importantissimo far vedere che tu stia lavorando su qualcosa. Aprire e chiudere il browser internet centinaia e centinaia di volte è una delle pratiche più gettonate. Per i giapponesi un tale comportamento è indice di vanto per il rispetto e la disciplina mostrati nei confronti dell'azienda, che però poi si traducono in uno dei livelli di produttività più bassi al mondo, soprattutto se paragonato al numero delle ore lavorate. Nelle arti marziali la situazione è leggermente diversa a seconda di quale scuola una persona decida di praticare. Soprattutto nei dojo di arti marziali moderne il livello è altissimo, in special modo se l'arte praticata ha una forte componente agonistica, kendo, judo, karate, shoringi kenpo, kyudo. Discorso opposto è invece per le scuole tradizionali, dove l'anzianità di allenamento raramente coincide con un livello tecnico sopra la media. In un microcosmo in cui il concetto di competizione e confronto sono assenti il miglioramento è quasi nullo. Per anni e anni ho visto praticanti copiare i movimenti dei maestri senza capirne assolutamente il significato, rimanendo per lunghissimo tempo in punti di stallo. Molto spesso gli stessi maestri non si pongono minimamente il problema che ogni essere umano ha una conformazione fisica totalmente diversa e che per poter mettere in pratica determinati concetti bisogna adattare la tecnica alla persona e non viceversa. Com'è possibile dunque ambientarsi in una società che è così diversa dalla nostra? Fortunatamente da stranieri è molto più facile fare delle domande ed ottenere delle risposte. E questo perché il maestro di arti marziali, il professore universitario o il capo dell'azienda danno per scontato che quello che stanno spiegando è di difficile comprensione per noi, data la distanza culturale che ci separa. Un proverbio giapponese molto famoso recita, chiedere è l'imbarazzo di un istante, non chiedere e rimanere ignoranti è l'imbarazzo di una vita. Per me ha sempre funzionato. Grazie per aver guardato il video e alla prossima!